Domani asce la riposta, è la prima edizione che mi aggiungerebbe essere importantissima. Cosa è che vi è mai capitato di andare in un locale dove la musica è forte, non si riesce a ballare e voi non avete voglia di ballare. Cosa è che vi è mai capitato di andare in un locale dove la musica è forte, non si riesce a ballare e voi non avete voglia di ballare. Cosa è che vi è mai capitato di andare in un locale dove la musica è forte, non si riesce a ballare e voi non avete voglia di ballare e voi non avete voglia di ballare. Cosa è che vi è mai capitato di andare in un locale dove la musica è forte, non si riesce a ballare e voi non avete voglia di ballare. Cosa è che vi è mai capitato di andare in un locale dove la musica è forte, non si riesce a ballare e voi non avete voglia di ballare. Cosa è che vi è capitato di andare in un locale dove la musica è forte, non si riesce a ballare. Cosa è che vi è capitato di andare in un locale dove la musica è forte, non si riesce a ballare. Cosa è che vi è capitato di andare in un locale dove la musica è forte, non si riesce a ballare e voi non avete voglia di ballare. Cosa è che vi è capitato di andare in un locale dove la musica è forte, non si riesce a ballare e voi non avete voglia di ballare. Cosa è che vi è capitato di andare in un locale dove la musica è forte, non si riesce a ballare e voi non avete voglia di ballare e voi non avete voglia di ballare. Cosa è che vi è capitato di andare in un locale dove la musica è forte, non si riesce a ballare e voi non avete voglia di ballare.